La trama dell'ultima puntata della serie Victoria, info per chi volesse rivedere le repliche termina con oggi e con la nuova puntata di Victoria, l'appuntamento interdibile, perché siamo giunti, ormai all'ultima puntata della prima stagione della serie in onda su canale 5, ecco cosa la trama di stasera, dove rivedere le puntate precedenti o tutta la serie in replica. Una bella storia vera. Giunge a conclusione la prima stagione di Victoria, la serie tv inglese in onda su canale 5 che andrà in onda stasera, una bella storia d'amore, che parla anche del progresso e l'ascesa economica avvenuta, in Inghilterra in epoca vittoriana, la regina ha paura di restare incinta, perché è sentito di una donna, che ha avuto problemi durante il travaglio. L'amore tra Albert e Victoria va a gonfie vele, ma capita qualcosa di pericoloso per l'incolumità della regina. Gli episodi di questa sera sono intitolati il primo il motore del cambiamento e il secondo la giovane Inghilterra, ecco le anticipazioni. Nel motore del cambiamento, Victoria dovrà prendere una decisione importante, chi prenderà il suo posto, nel periodo di pausa dei suoi impegni da regina e sceglierà proprio lui, Albert. Il lui però continua a sentirsi inferiore alla moglie, ed ad essere insoddisfatto del potere nel rapporto, che ha rispetto a lei, per rendere le cose ancora più complicate, ci sarà un viaggio, in cui le tensioni saranno appalesate. Nella giovane Inghilterra, succede qualcosa di terribile, che causa un profondo shock alla regina Victoria. Di cosa si tratterà? Il fatto creerà tensioni tra i due sposini. Alberto non vuole che la moglie, metta al primo posto il regno ed è molto protettivo nei suoi confronti. Per chi avesse perso le puntate precedenti può seguire la fiction sul sito mediaset on demand, consultabile anche da app, per rivedere tutte le puntate precedenti. Inforepliche puntate precedenti. Gli ascolti non hanno accolto in modo troppo entusiasto la serie, che in Inghilterra invece è stata un successone, ma non c'era da meravigliarsi, si trattava della storia di una grande regina inglese. La puntata precedente ha fatto solo 2,4 milioni di telespettatori, mentre la Rai mandava sul primo canale, la partita del Napoli, che ha invece fatto 5,5 milioni di telespettatori, ma di certo non è stata presa in considerazione per quanto meritava. Riguardo alla messa in onda in Italia della seconda stagione vi faremo notizie a riguardo, non perdetevi le nostre news e cliccate sul tasto segui per riceverle, vi terremo informati sulle ficzioni sui programmi, ma anche altre notizie utili, buona visione e buona lettura.